confermiamo che sta per arrivare la forte ondata di freddo polare tra il 18 il 22 di gennaio potrà arrivare la neve anche in pianura beh diciamo è confermato che arriverà la neve fino a fondo valle sulle alpi fino a quote collinare sull'appennino potrebbe arrivare anche in pianura tre capoluoghi di regione potrebbero rischiare la neve torino bologna e perugia